Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa La prima visita di Angelica alla famiglia Salina, da fidanzata, si era svolta regolata da una regia impeccabile. Il contegno della ragazza era stato perfetto a tal punto che sembrava suggerito gesto per gesto, parola per parola, da Tancredi. Ma le comunicazioni lente del tempo rendevano insostenibile questa eventualità e si fu costretti a ricorrere a una ipotesi, a quella di suggerimenti anteriori allo stesso fidanzamento ufficiale, ipotesi arrischiata anche per chi meglio credesse di conoscere la preveggenza del principino, ma non del tutto assurda. Angelica giunse alle sei di sera in bianco e rosa, le soffici trecce nere ombreggiate da una grande paglia ancora estiva sulla quale grappoli di uva artificiale e spighe dorate evocavano discrete i vigneti di gibil dolce e i granai di sette soli. In sala d'ingresso piantò lì il padre. Nello sventolio dell'ampia gonna salì leggera i non pochi scalini della scala interna e si gettò nelle braccia di Don Fabrizio. Gli diede sulle basette due bei bacioni che furono ricambiati con genuino affetto. il principe si attardò un attimo, forse più del necessario, a fiutare la Roma di Gardenia, delle guance adolescenti. Dopodiché Angelica arrossì, retrocedette di mezzo passo. Sono tanto, tanto felice. Si avvicinò di nuovo e ritta sulla punta delle scarpine gli sospirò all'orecchio. Zione, felicissimo Gheck, di regia paragonabile inefficacia, addirittura alla carrozzella da bambini di Eisenstein e che, esplicito e segreto com'era, mandò in visibilio il cuore semplice del principe e lo aggiogò definitivamente alla bella figliola. Il principe dava il braccio ad Angelica. Si traversarono parecchi saloni quasi all'oscuro, vagamente rischiarati da lumini a olio che permettevano a malapena di trovare la strada. In fondo alla prospettiva delle sale splendeva invece il salone di Leopoldo, dove stava il resto della famiglia e questo procedere attraverso il buio deserto verso il chiaro centro dell'intimità aveva il ritmo di una iniziazione massonica. La famiglia si affollava sulla porta. La principessa aveva ritirato le proprie riserve dinanzi all'ira maritale che le aveva, non è sufficiente dire, respinte, ma addirittura fulminate nel nulla. Baciò ripetutamente la bella futura nipote e la strense a sé tanto forte che alla giovinetta rimase impresso sulla pelle il contorno della famosa collana di rubini dei Salina che Maria Stella aveva tenuta a portare, benché fosse giorno, in segno di festa grande. Francesco Paolo, il sedicenne, fu lieto di avere l'opportunità eccezionale di baciare anch'egli Angelica sotto lo sguardo impotentemente geloso del padre. Concetta fu affettuosa in modo particolare. La sua gioia era così intensa da farle salire le lacrime agli occhi. Le altre sorelle si stringevano attorno a lei rumorosamente liete, appunto perché non commosse. Padre Pirrone, poi, che santamente non era insensibile al fascino muliebre nel quale si compiaceva di ravvisare una prova irrefutabile della bontà divina, sentì fondere tutte le proprie obiezioni dinanzi al tepore della grazia col G minuscolo. E le mormorò «Veni, sponsa del Libano!» Dovete poi un po' contrastare per non far risalire alla propria memoria altri più calorosi versetti. Mademoiselle d'Ombreille, come si conviene alle governanti, piangeva di emozione. Bendicò soltanto, in contrasto con la consueta sua socievolezza, ringhiava nel fondo della propria gola, finché venne energicamente messo a posto da un Francesco Paolo indignato cui le labbra fremevano ancora. Il grande caminetto era acceso più in segno di giubilo che per riscaldare l'ambiente ancora tiepido, e la luce delle fiamme palpitava sul pavimento, sprigionava intermittenti bagliori dalle dorature svanite del mobilio. Esso rappresentava davvero il focolare domestico, il simbolo della casa, e in esso i tizioni alludevano a sfavillì di desideri, labbrace a contenuti ardori. Dalla principessa, che possedeva in grado eminente la facoltà di ridurre le emozioni al minimo come un denominatore, vennero narrati sublimi episodi della fanciullezza di Tancreli, e tanto essa insistette su questi che davvero si sarebbe potuto credere che Angelica dovesse riputarsi fortunata a sposare un uomo che a sei anni era stato tanto ragionevole da sottomettersi ai clisterini indispensabili senza far storie, e a dodici tanto ardito da aver osato rubare una manata di ciliegie. Presto la voce di Don Fabrizio pose in ombra queste inezie. Parlò del Tancredi di adesso, del giovanotto sveglio e attento, sempre pronta a una di quelle uscite che rapivano chi gli voleva bene ed esasperavano gli altri. Raccontò come durante un soggiorno a Napoli, presentato alla duchessa di San qualche cosa, questa si fosse presa di una passione per lui e voleva vederlo a casa mattina, pomeriggio e sera, non importa se si trovasse in salotto o a letto, perché, diceva, nessuno sapeva raccontare le petit rien come lui. e benché Don Fabrizio si affrettasse a precisare come allora Tancredi non avesse ancora sedici anni e la duchessa fosse al di là della cinquantina, gli occhi di Angelica lampeggiarono, perché essa possedeva precise informazioni sui giovanottini palermitani e forti intuizioni sul conto delle duchesse napoletane. Se da questa attitudine di Angelica si volesse dedurre che essa amava Tancredi, ci si sbaglierebbe. Essa possedeva troppo orgoglio e troppa ambizione per essere capace di quell'annullamento provvisorio della propria personalità senza il quale non c'è amore. Inoltre, la propria limitata esperienza giovanile e sociale non le permetteva ancora di apprezzare le reali qualità di lui, composte tutte di sfumature sottili. Però, pur non amandolo, essa era allora innamorata di lui, il che è assai differente. Gli occhi azzurri, l'affettuosità scherzosa, certi toni improvvisamente gravi della sua voce le causavano, anche nel ricordo, un turbamento preciso e in quei giorni non desiderava altro che di esser piegata da quelle mani, piegata che fosse stata, le avrebbe dimenticate e sostituite come infatti avvenne, ma per il momento ad esser germita da lui essa teneva assai. Quindi, la rivelazione di quella possibile relazione galante che era del resto inesistente le causò un attacco del più assurdo fra i flagelli, quello della gelosia retrospettiva, attacco presto dissipato, però, da un freddo esame dei vantaggi erotici ed extraerotici che le sue nozze con Tancredi recavano. Don Fabrizio continuava ad esaltare Tancredi, trascinato dall'affetto parlava di lui come di un mirabù. Ha cominciato presto ed ha cominciato bene, la strada che farà è molta. La fronte liscia di Angelica si chinava nell'assenso. In realtà, all'avvenire politico di Tancredi non badava. Era una delle molte ragazze che considerano gli avvenimenti pubblici come svolgentisi in un universo separato e non immaginava neppure che un discorso di Cabour potesse con l'andar del tempo attraverso mille ingranaggi minuti influire sulla vita di lei e mutarla. Pensava in siciliano «Noi avremo il formento e questo ci basta, che strada è strada!» Ingenuità giovanili queste che essa doveva in seguito rinnegare quando nel corso degli anni vivenne una delle più viperine e gerie di Montecitorio e della consulta. E poi Angelica proseguì il principe «Voi non sapete ancora quanto è divertente Tancredi sa tutto di tutto coglie un aspetto imprevisto quando si è con lui quando è in vena il mondo appare più buffo di come appaia sempre talvolta anche più serio». Che Tancredi fosse divertente Angelica lo sapeva che fosse capace di rivelare mondi nuovi essa non soltanto lo sperava ma aveva ragione di sospettarlo fin dalla fine del mese scorso nei giorni del famoso ma non unico bacio ufficialmente constatato che era stato infatti qualcosa di molto più sottile e sapido di quel che fosse stato il solo altro suo esemplare quello regalato e dal ragazzotto giardiniere appoggio a Caiano più di un anno fa ma ad Angelica importava poco dei tratti di spirito della intelligenza anche del fidanzato assai meno ad ogni modo di quanto queste cose importassero a quel caro Don Fabrizio tanto caro davvero ma anche tanto intellettuale in Tancredi essa vedeva la possibilità di avere un posto eminente nel mondo nobile della Sicilia mondo che essa considerava pieno di meraviglie assai differenti da quelle che esso in realtà conteneva ed in lui desiderava anche un vivace compagno di abbracciamenti se per di più era anche intellettualmente superiore tanto meglio ma lei per conto suo non ci teneva divertirsi si poteva sempre per il momento spiritoso o sciocco che fosse avrebbe voluto averlo qui che le stuzzicasse almeno la nuca di sotto le trecce come soleva fare fra l'altro dio dio come vorrei che fosse qui tra noi ora esclavazione che commosse tutti sia per la evidente sincerità come per l'ignoranza in cui restava la sua cagione e che conchiuse la felicissima prima visita un'abitudine nella quale si era riannidato don Fabrizio ridiventato sereno era quella delle letture serali in autunno dopo il rosario poiché faceva troppo buio per uscire la famiglia si riuniva attorno al caminetto aspettando l'ora di pranzo ed il principe leggeva ai suoi appuntate un romanzo moderno e sprezzava degnitosa benevolenza da ognuno dei propri pori erano quelli appunto gli anni durante i quali attraverso i romanzi si andavano formando quei miti letterari che ancora oggi dominano le menti europee la sicilia però in parte per la sua tradizionale impermeabilità al nuovo in parte per la diffusa misconoscenza di qualsiasi lingua in parte anche occorre dirlo per l'avvessatoria censura borbonica che agiva per mezzo delle dogane ignorava l'esistenza di Dickens di Elliot della Sand e di Flaubert financo quella di Dumas il livello delle letture era quindi piuttosto basso condizionato come era dal rispetto per i pudori virginali delle ragazze da quello per gli scrupoli religiosi della principessa e dallo stesso senso di dignità del principe che si sarebbe rifiutato a far udire delle porcherie e suoi familiari riuniti si era verso il 10 di novembre ed anche alla fine del soggiorno a donna fugata pioveva fitto imperversava un maestrale che spingeva rabbiosi schiaffi di pioggia sulle finestre lontano si udiva un rotolio di tuoni si leggeva angiola maria e quella sera si era giunti alle ultime pagine la descrizione dello sgomento viaggio della giovinetta attraverso la diaccia lombardia invernale interizziva il cuore siciliano delle signorine pur nelle loro tiepide poltrone ad un tratto si udì un gran tramestio nella stanza vicina e mimì il cameriere entrò col fiato grosso eccellenze gridò dimenticando tutta la propria stilizzazione eccellenze è arrivato il signorino Tancredi è in cortile che fa scaricare i bagagli dal carrozzino bella madre madonna mia con questo tempo e fuggì via preceduti dai lunghi passi di don fabrizio tutti si precipitarono verso la scala si traversarono in fretta i saloni bui si discese la grande porta era spalancata sullo scalone esterno e giù sul cortile il vento irrompeva faceva fremere le tele dei ritratti spingendo innanzi a sé umidità e odor di terra sullo sfondo del cielo lampeggiante gli alberi del giardino si dibattevano e frusciavano come sete strapazzate don fabrizio stava per infilare la porta quando all'ultimo gradino comparve una massa informe e pesante era Tancredi avvolto nell'enorme mantella azzurra della cavalleria piemontese talmente inzuppato d'acqua da pesare cinquanta chili e da apparire nera stai attento zione non mi toccare sono una spugna Tancredi odorava di cambagnato e da tre giorni non si era tolto gli stivali ma era lui per don fabrizio che lo abbracciava il ragazzo più amato che non i propri figli per maria stella il caro nipote perfidamente calunniato per padre pirrone la pecorella sempre smarrita e sempre ritrovata per concetta un caro fantasma rassomigliante al suo amore perduto quando i primi impeti furono trascorsi don fabrizio si accorse che sul limitare della porta stavano due altre figure gocciolanti anch'esse ed anch'esse sorridenti Tancredi se ne accorse pure e rise scusatemi tutti ma l'emozione mi aveva fatto perdere la testa zia disse rivolto alla principessa mi sono permesso di portare qui un mio caro amico il conte Carlo Cavriaghi del resto lo conoscete è venuto tante volte alla villa quando era in servizio presso il generale e quell'altro è il lancere Murone il mio attendente il contino toltosi il berrettino fradicio e sformato baciava la mano alla principessa sorrideva e abbagliava le ragazze con i baffetti biondi e l'insopprimibile e remoscia e pensare che a me avevano detto che qua giù da voi non pioveva mai mamma mia sono due giorni che siamo stati come dentro un fiume dopo si fece serio ma insomma Falconeri dov'è la signorina Angelica mi ha trascinato da Napoli fin qui per farmela vedere vedo molte belle ma lei no si rivolse a Don Fabrizio sa a principe a sentire lui e la regina di Saba andiamo subito a rivelire la formosissima etnigerima muoviti testone Don Fabrizio intervenne senta Conte lei credeva che in Sicilia non piovesse mai e può vedere invece come diluvia non vorrei che credesse che da noi non ci sono le polmonite e poi si ritrovasse a letto con quaranta di febbre mi mi disse al suo cameriere fai accendere i caminetti nella stanza del signorino Tancredi e in quella verde di foresteria fai preparare lo stanzino accanto per i soldati e lei Conte vada ad asciugarsi bene a cambiare abito le farò portare un ponch e dei biscotti il pranzo è alle otto fra due ore Cavriaghi era da troppi mesi abituato al servizio militare per non piegarsi subito alla voce autoritaria salutò e seguì mojo mojo il cameriere intanto Tancredi scriveva carissima Angelica sono arrivato e arrivato per te sono innamorato come un gatto ma anche bagnato come un ranocchio sudicio come un cane sperso e affamato come un lupo appena mi sarò ripulito e mi stimerò degno di mostrarmi alla bella fra le belle mi precipiterò da te fra due ore i miei ossequi a tuoi cari genitori a te niente per ora il testo fu sottoposto all'approvazione del principe questi che era sempre stato un ammiratore dello stile epistolare di Tancredi lo approvò sorridendo ed il biglietto venne subito inviato di rimpetto